Ragazzi, prima cosa, prima missione della Galacticraft A parte non finire nella lava lì, praticamente Cercare le pecore Ok, allora, a parte che c'è il tramonto, quindi, già Eh, lo so, però, ho capito Io prendo un albero Prima del tramonto Prima del tramonto No, in realtà il tramonto c'è Però Dove, dove? No, è notte, cioè Va bene Adesso verrò uccisa dagli zombie, ecco Parlando di zombie Oh, ci sono i funghi Ci sono i funghi Allora No Adesso verrò uccisa dagli zombie Cominciamo bene, insomma Cominciamo benissimo Allora, allora Allora, fatemi riprendere le mie cose, ciao Mi bullizzano Adesso li butto col bastone Cioè, nel senso Mi dissocio, però va bene Dove sei? 10, dove sei? Eccolo No, c'è anche lo scheletro Aiuto Aiuto, ecco di Ma non ho neanche un'arma Devo craftarla Aspetta Il banco da lavoro Ok Ok, mi sono craftata la prima spada Ragazzi, la prima spada di questa serie Grazie Dormi solo tu, non ho altra lana Aspetta Vengo anch'io Adesso ce l'ho la spada Oh no, creeper, creeper, creeper Aiuto Adesso esplode No È dissuoso Vorrei sapere come ha fatto Sì, ho trovato il greggio Ok Ho trovato Ezio Greggio Ok Allora Se trovo Ma io non vedo niente, Cristian Giuro che non vedo niente Ok Lo sai che abbiamo 4-5 Enderman attorno? Oddio, davvero Non guardarli Ok Ecco Ok Ma quanti letti hai? Uno? Ah, due Perfetto, grazie Andiamo Vai Domani mattina ti farei molto male Ok Ok, ce l'abbiamo fatta Che è successo? Soffocato in un muro? Hai preso tu? Sì Allora Perfetto Perfetto Meglio Magari di giorno Capiamo di più Prendo altro legno Che ci può servire Veloce a prendere il legno Sì A few moments later Perché che dobbiamo fare adesso? No, dobbiamo costruire subito casa E mettere i letti Ok Dai Non ammazzare i maiali Ok, no Non li ammazzo Devo costruire casa eh Va bene Si dimmi che cosa devo fare Così ti do una mano a costruire Una baracca Ma non è innocuo Non è L'hai colpito Tu me l'ho colpito Non l'ho colpito Non l'ho colpito Ma è un rettangolo praticamente Ma niente Non è un rettangolo Aspetta Questo momento in poi Dovresti andare a prendere Cioè Dovremmo andare a prendere Nei fondali marini Un po' di argilla In modo che facciamo già I mattoni per la casa Ok 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 Che cosa Non vedo più niente Ma hai chiuso? Ecco perché Sì Abbiamo messo insieme Lo devo togliere col piccone adesso Eh vabbè Me l'ha giveato lo stesso Lo so che si rompe con l'ascia Ok No Ma me lo vuoi dire? Mi ho fatto tutto in due la porta Non ci posso credere No ti prego No vabbè Basta Basta Genio Io ce l'ho al mio letto Tu? No ce li ho entrambi Ce li ho entrambi Scusi Senza che li metti qua Teniteli nell'inventario sempre Tieni il tuo Tieni il tuo Io vado in miniera allora dai Il letto il letto Dormi un attimo Ah perfetto Sì Oddio cos'è? C'è un canyon? Cos'è sta roba? È una È un caverno Oddio Coloranti che non serve Aspetta Ho trovato qualcosa Non posso prenderlo col piccone di legno Mi serve la pietra È il rame quello che avete Non so Lo sto facendo Lo sto facendo Dammi il tempo di fare il piccone di pietra Questi sono minerali che fanno parte della Galacticraft Per craftare roba elettronica per la moda Ok 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 perfetto Banca da lavoro Sì 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 Banca? Sì sì Ma la banca non è da lavoro È da soldi Hai ragione Ok Ma hai notato che abbiamo completato lo stesso obiettivo nello stesso tempo? Dalla stessa ora? Oh è vero! Ma no aspetta Io ti avevo fatti due di piccone perché ne volevo dare una a te Vabbè abbiamo completato insieme salto di qualità Che bello Ma no oggi facciamo tutto insieme amore Sì no oggi Oddio no 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 creeper creeper Ma perché i creeper mi seguono? Raga Raga ma mi spiegate perché vengo bullizzato dai creeper? Cioè nel senso Ma io veramente Boh Oh Ne ho trovato tantissimo Aspetta 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 Vengo tra un po' Ho trovato tantissimo rame Tantissimo Rip No no che rip Ho trovato tantissimo rame Ma è tanto Uh c'è un lupo che non posso adomesticare Ma io non ce l'ho le ossa E ce l'ho io Nel corpo Ma dai sai che non lo sapevo Oh no Il carbone sta bene Così avrò anche io le torce Guarda come se lo ruba Ladro Mi banni Ah sei moderatore Ma non puoi bannarmi dal mio canale Lo sai Mi remisi per sempre Ok Grazie Eh ce l'ho eccolo Ma non ha funzionato Aspetta Ne vuole di più Tre Mamma mia Migliori amici per sempre Eccolo qui Grazie Grazie cagnadino Lo sai che se lo porti con te Se tu attacchi un mob Lui te lo attacca per te L'ha appena fatto Ok Ho trovato delle zucche amore Le zucche dove? Sì Eh lo trovate perché ti servono Sì rompi Che facciamo i semi e le agricolture dai Sì ne ho trovate due C'è il rame grezzo che però non abbiamo la fornace Aspetta la faccio subito Eh fanno due tre Qualcuna Ok Allora le fornace le metto una sopra l'altra Porto un po' di cose in miniera che non si sa mai Andiamo Vado giù C'è tantissimo rame Questi qua più chiari sono della Thermal Quei rame più scuri sono della Dall'ActiRapt Ok Vieni con me Vedrai qualcosa di eclatante Oddio Ma i blaze non erano gialli? È della moto questo Fa malissimo Ah beh Bene Ragazzi è un blaze di ghiaccio? Di ghiaccio sì Ok Bravissimo Grazie Che ti ha dato? Non lo so Niente Ma che c'è? Perché mi devo dare qualcosa? Sì Vabbè Non fa niente Non ti vedo Dove è morto il tizio Tini Il maiale si è scappato perché ti aveva mangiato una cotoletta davanti a lui Quanto sei cattivo Non ti vedo 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 Non ti vedo